Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Buongiorno, quest'oggi è il 17 agosto del 2015, è un lunedì ed è l'ultimo giorno che farò qui a Cupavia perché domani, scusate per la voce, domani alle 9 della mattina parto e me ne ritorno a Genova, fine delle vacanze. Allora mi sono voluta fare un piccolo regalino e vado a fare una cavalcata e ho deciso di portarvi con me. Ci vediamo dopo, ora sono uscita dal camping e mi sto avviando verso il maneggio. Purtroppo oggi la giornata non è un granché, però fa caldo, ci sta come ultimo giorno. Ci vediamo tra poco, ciao ciao! Sono arrivata al maneggio, i cavalli sono là, in fondo al parcheggio. Non vedo l'ora, è da una vita che non cavalco, speriamo bene, ma al che vada cado, risalgo. Ci sto, ci sto, ci sto. E mi ammazzo anche camminando, quindi figurate se non uso il cavallo. Come potete vedere sto tornando indietro perché oggi si doveva fare il bagno con i cavalli, ma purtroppo essendoci mare grosso, ma l'avevo immaginato, non si fa. Faremo una gita sui monti e visto che io sono in grandissima tenuta di equitazione, un vero pantaloni corti, mi va a cambiare. Non avrò la mia solita divisa da cavallerizza perché non pensavo minimamente di venire a cavalcare, quindi metterò dei classicissimi jeans, ma devo muovermi. E in più gli ho dato il numero, ma in italiano, quindi neanche il numero francese. Cioè c'è gente che mi guarda in modo strano, ma ormai mi sono fatta l'abitudine, ma sono belle le loro facce. e a dopo. Mi sono cambiata, anche questa molto tenuta da equitazione, e ora sto ritornandola. Vediamo un po'. Piccolo, ma bello. Sono veramente contenta. E' il mio cavallo. Mi sono conciata io ora. E' una femmina. Sono quasi tutti insieme. Manco solo io. Ehi, che carina. E' un po' timida. Manco solo io, ma proprio salgo. E' su, in sella. Troppo figo. Sono veramente troppo, troppo contenta. E' un po' timido. Per ora, ne sorti la spiegazione. E' un po' timido. Non c'è la bagna? E' un po' timido. E' un po' timido. E' un po' timido. È un po' timido. E poi è un po'. io sono molto contente il nostro corso gratuito Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti